Buongiorno, è un vero piacere presiedere questa prima sessione. È un piacere per me perché ho raccolto l'eredità del dottor Cascello nella direzione dell'ufficio che si occupa della ricerca sanitaria degli IRCS e quindi sono sostanzialmente appena arrivato in questo mondo ma entusiasta di certe tecnologie e del lavoro che fino adesso su spinta del dottor Cascello è stato fatto nel creare questa rete. Quindi è estremamente interessante per me presiedere la presentazione non dell'infrastruttura ma di quello che già oggi si fa su questa rete. Quindi prima di tutto inviterei i vari relatori, il professor Pierotti, il professor Frisoni, il professor Curti e Butignoni. Purtroppo mi dicono che la professoressa Garret probabilmente non potrà partecipare ai lavori. Darei immediatamente la parola al professor Pierotti per parlare di programmi di ricerca e reti collaborativi di alleanza contro il cancro. Buongiorno a tutti, grazie al dottor Gaetani e grazie per l'invito a questo convegno che mi pare, al di là di ogni dubbio, rappresenti uno di quei, un momento di quel grosso sforzo che è nato, credo da qualche tempo, verso la modernizzazione del Paese. Io sono qui, in realtà, il lavoro per cui mi pagano è quello di direttore scientifico dell'istituto nazionale dei tumori, ma in realtà sono qui in una veste particolare che è quella di segretario scientifico di alleanza contro il cancro, sulla quale vi dirò poi alcune parole. Volevo anche però sottolineare, perché si parla di reti, che per ragioni varie, non certamente per un piano studiato a tavolino, mi trovo a vivere il problema delle reti ben a tre livelli. Questa qui, di cui oggi rappresento il livello nazionale, ma anche il livello regionale, in quanto credo sappiate che esistono delle reti in Lombardia e la rete oncologica lombarda, ma anche in altre regioni, che rappresentano un momento di risposta ai problemi gestionali, scientifici ed economici, che la sfida della nuova medicina moderna, la cosiddetta medicina molecolare, le terapie personalizzate, eccetera, rappresenta, che è quella di riuscire a parità di risorse, sembra quasi una contraddizione impossibile, a portare delle risorse fresche per l'innovazione. In realtà uno degli scopi delle reti è quello di avere delle economie di scala e una migliore appropriatezza delle terapie e delle cure in generale che dovrebbero riuscire proprio a raggiungere questo scopo. Il terzo livello è un livello europeo, ancora per i prossimi due anni sarò il presidente dell'Organizzazione Europea dei Cancer Institutes, che raccoglie circa 80 entità e dai tre livelli devo dire che i concetti sono ben presenti, le strategie anche spesso sono simili, ma un sistema che abbia compiutamente realizzato e messo in regime una rete, perlomeno per quello che è la patologia che conosco, cioè l'oncologia, non è ancora arrivata a questo punto. Quindi è un processo in via di divenire e sicuramente il problema dell'interazione, integrazione, scambio di informazioni, razionalizzazione di queste è sicuramente uno dei problemi principali. Io stamattina devo anche dire che ho imparato moltissimo e mi sono reso conto dell'importanza di questo sistema e di queste tematiche. Alleanza contro il cancro è un network di istituti, prima di tutto di IRCS oncologici, cosiddetti soci fondatori. È un discorso che parte dal 2002, quando era allora ministro il professor Sirchia, che aveva trovato come strumento di finanziamento per le attività di alleanza, una quota parte della ricerca corrente, che è uno di quegli strumenti con cui il Ministero della Salute finanzia gli IRCS in maniera strutturale. L'altro grosso strumento è quello della ricerca finalizzata. Questo processo di finanziamento ha avuto un cambiamento fondamentale, pochi anni dopo, quando verso la fine del 2004 il professor Veronesi convince l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi su quanto era importante, cogente il problema cancro in generale, ma anche nel Paese, e il Presidente decise di allocare 100 milioni di euro su un programma speciale sul cancro. Questo programma poi ebbe il suo esito operativo tra il 2006 e il 2007 con la realizzazione di numerosi progetti integrati in oncologia OPIO per 70 milioni di euro e i restanti 30 milioni di euro vennero allocati per una progettualità nuova di alleanza contro il cancro. Questa progettualità vide quattro progetti che sono ancora attualmente operativi. Uno era dedicato soprattutto all'informazione per i pazienti e alla, come dire, analisi delle ineguaglianze rispetto all'accesso ai trattamenti, diagnosi, eccetera. Il secondo programma di cui vi dirò qualcosa di più nel termine della mia presentazione è un programma che riguardava le infrastrutture, cioè reti di biobanche, di registri tumori, poi vedremo in dettaglio. Il terzo programma è dove c'è stata allocata diciamo la parte più significativa delle risorse finanziarie, è un programma di ricerca traslazionale, cioè che voleva portare al letto del paziente delle innovazioni prodotto di ricerca. E il quarto programma, di cui ancora accenderò perché è molto coerente con quanto è stato detto finora, è un programma tra cui è stato accennato come uno dei punti strategici anche del dottor Cascello dell'internazionalizzazione. Raccontato brevemente di alleanza contro il cancro, come nasce, eccetera, con questa prossima diapositiva c'è un po' l'idea della forza del network, cioè questi sono i cosiddetti membri fondatori, ma sono più numerosi se aggiungiamo i membri associati. Vedo qui Gian Domenico Russo, IDI, il suo istituto, è un membro attualmente anche di alleanza, però già diciamo che grossomodo è una stima a ribasso, con la rete di alleanza e noi abbiamo circa 2.000 posti letto a disposizione nella rete e quindi è anche importante per gli studi clinici e quasi 4.000 ricercatori. Adesso volevo darvi brevissimamente delle informazioni rispetto a una rete che all'interno di alleanza contro il cancro è già operativa e ha dato dei risultati estremamente interessanti, è la rete dei tumori rari. La rete dei tumori rari nasce quasi spontaneamente da un bisogno che è evidente intrinsecamente nella definizione di tumore raro. C'è un tumore di questo tipo, il singolo centro ne vede molto pochi, quindi la possibilità di creare un'expertise, avere una memoria storica autonoma e limitata al singolo centro è molto limitata. Per questo invece il concetto di rete che mette in condivisione singolo paziente con più enti e qui vedete quanti sono solitamente delle oncologie mediche allocate sul territorio in diverse situazioni danno una forza notevolmente superiore a quello che ha un singolo centro. Dal punto di vista, la diapositiva purtroppo non è uscita con tutti i suoi elementi, mi spiace, avevamo fatto un cambiamento al volo dello sfondo, vedo che non ho mai avuto. Adesso cercherò di spiegarmi meglio. Allora, un primo elemento è che il paziente viene visto in uno dei centri, il quale può già usufruire attraverso il collegamento con altri esperti e decidere per esempio una chemioterapia. Dopodiché c'è di nuovo un consulto con altri centri e si deve decidere se la chemio è stata per esempio neodiuvante, che c'è bisogno di un intervento chirurgico e viene individuato nella rete il luogo dove questo può essere fatto e che abbia la necessità del minimo spostamento del paziente. Perché tutto sommato uno degli scopi o lo scopo principale di questa rete, oltre alla condivisione dell'informazione, è quello anche di far fronte il più possibile alla migrazione sanitaria. Noi sappiamo quanto è grave questo problema anche per gli scompensi che ci sono dal punto di vista documentati, anche dal punto di vista epidemiologico, tra il nord e il sud del paese, ma al di là della doverosa implementazione delle infrastrutture del sud del paese, già adesso una risposta che può essere data è quella attraverso la rete, che riesca a razionalizzare perlomeno questa mobilità che non riesce a eliminare. Qua mi scuso ancora una volta perché, no, si legge, adesso sono sul computer che non vedo bene, qui si legge qualcosa, però c'è anche questo sfasamento, chiedo scusa, non so come fare, va bene. Allora, i tre pazienti che gestisce la rete tumore rari. Il primo è il cosiddetto paziente logico. In questo caso non si fa altro che ciascun centro, avendole condivise, applica le cosiddette linee guida, che sono state però generate dall'esperienza di tutti. Il paziente logico sta nel suo centro e il suo centro è in grado di gestirlo autonomamente. Il secondo paziente è il paziente virtuale. In questo caso il singolo centro condivide le informazioni sulla malattia, sugli esami a cui è stato già sottoposto il paziente, lo condivide con un altro o altri centri e ottiene le risposte di cui ha bisogno. Il terzo paziente invece è il paziente fisico. Quello che si è detto prima, arriva in una postazione della rete, riceve un certo tipo, una certa step del suo percorso terapeutico, che però viene completato riferendolo a un centro il più vicino possibile, quello che chiamavo prima la migrazione intelligente. Un po' di numeri. Questo è, con l'andare del tempo, quelli che sono stati i pazienti visti nella rete tumori rare. Come vedete nel 2009 sono 360. Gli altri due istogrammi si riferiscono a due progetti, Giotto e Register, che sono due progetti osservazionali che sono nati col supporto della rete stessa. Questo fosse il dato più interessante. Questi sono i pazienti totali della rete nei vari anni e la colonnina azzurra fa vedere in che percentuale dei casi è stata necessaria una revisione patologica. Questo è circa il 44%. E nel totale, questo credo che il dato sia anche più impressionante, quello che da solo spiega e giustifica questo approccio di rete, è che nel 25-30% dei casi è stata cambiata la diagnosi. Vi rendete conto cosa questo vuol dire? Tutti gli effetti, prima di tutto per il paziente, ma anche per il sistema. Ecco, questo dà un po' un cronoprogramma di come si è evoluto questa rete. Vedete, a livello centrale il grosso supporto di alleanza, ma poi un grosso intervento del Ministero con l'idea finale che questa rete sia incardinata nel sistema sanitario nazionale e riceva una condivisione delle varie regioni. Altro aspetto che volevo sottolineare è proprio questo. Con GAR io credo che sia lo strumento essenziale per realizzare quella che noi chiamiamo la rete delle reti, ancorché le singole regioni intravedono un modello simile alleanza o alla Rol di dotarsi di una rete per patologia e la migliore probabilità di successo, noi lo abbiamo cognato in questa regione, è di globalizzare l'evidenza ma localizzare la decisione. Cioè quanto più sugli aspetti formali la rete locale è autonoma, tanto più è probabile il successo. Avendo però un requisito essenziale, le varie reti devono saper comunicare tra loro, cioè ci deve essere questa capacità di plug del sistema che le mette, che le fa colloquiare insieme. Questa è la salterei, qui arriverei a un attimo a declinare questo ecco allora tu sai, forse qui c'è arrivo, ecco mi è andata bene perché è l'unica cosa di tecnologico che riesco a fare. Questa, brevissimamente, per concludere, alleanza contro il cancro e ricerche in Europa. Era quello che sottolineava sia il dottor Cascello che il dottor Valente, noi abbiamo una priorità che è questa, sappiamo tutti che come sistema Paese è molto più alto il contributo che diamo come risorse nostre, le risorse comunitarie, di quanto non otteniamo indietro con i nostri programmi di ricerca. Quindi il fare massa critica, il fare coordinamento, e qui questa anche apertura con il MIUR è un valore aggiunto assoluto e Alleanza ha tra gli obiettivi questo. Vi leggete lì, penso che sia anche abbastanza inutile ripeterli, rileggerli, comunque vedete la frammentazione è uno dei punti che va evitati che Alleanza vuol fare, interagire con altri Paesi grazie anche alla presidenza dell'OECI, eccetera. Questo invece mi soffermerei un momentino perché fa vedere appunto come questo circuito nazionale sulla oncologia traslazionale per presentarci non frammentati ma forti come sistema Paese al tavolo europeo, trova i suoi strumenti in questi due programmi di Alleanza contro il cancro. Il programma 2 che riguarda le reti italiane, cioè si è cercato e si cerca tuttora di coordinare e mettere in rete i vari registri, le biobanche e risorse biomolecolari, creare un network nazionale per studi clinici e strutture di GMP. Il metodo di START, START vuol dire status of the art sulla diagnostica e la terapia delle varie malattie oncologiche. Non è un ennesimo prontuario di linee guida ma sta un passo prima. È un sito dove vengono continuamente aggiornati i dati di letteratura che riguardano novità comprovate e già validate da studi clinici ad hoc, terapeutiche e diagnostiche delle varie patologie tumorali. La rete tumorale di cui ho parlato, la rete di bioinformatica, modelli per clinici e strutture, ad esempio l'utilizzo dei topi geneticamente modificati come, diciamo, utilizzo risorsa comune, tumori ereditari che sono per definizione tumori rari e poi l'importante progetto Teseo che è una rete di telepatologia che anche qui ha lo scopo di far migrare l'informazione in ogni paziente ottenendo lo stesso risultato. Questi programmi si interfacciano poi con il programma 4 dell'internazionalizzazione vera e propria che devo dire recentemente grazie al Dipartimento del Torcascello, del Dottor Guglielmi e della Professoressa Lavitrano ha ottenuto un grossissimo impulso. Io per scaramanzia non dico niente ma attraverso il lavoro di queste persone e il supporto di alleanza abbiamo creato una serie di sinergie per cui ci sono buonissime probabilità che l'Italia abbia come Paese la leadership in un work package dei prossimi programmi integrati europei sulla salute e che partecipino in una posizione di forza anche ad altri. I vantaggi offerti al programma 4 di nuovo sono qui, si leggono velocemente e quindi consideriamo importante l'esperienza di alleanza perché penso che il Ministero sia orientato in questo senso. È un modello che potrebbe essere trasferito da altre patologie, la neurologia, il cardiovascolare, le malattie metaboliche. Quindi è una sfida doppia di raggiungere un obiettivo concreto verso la comunità europea di acquisire della leadership nei programmi ma anche nei confronti del mondo della salute e della sanità anche di fornire un modello. Quindi le prospettive sono ovvie, sono quelle di consolidare i progetti iniziativi già avviati, creare un osservatorio per monitorare gli interessi nazionali nei bandi specifiche, riducendo la competizione interna perché puntando su quello che è il migliore nel Paese e aggregando gli altri e facilitare le sinergie, creare un fondo per sostenere nuove iniziative di interesse nazionale, questo ovviamente tutta competenza del Ministero, aumentare il sostegno fornito dal focal point ai singoli ricercatori, con la competenza ancora un po' un libro dei sogni, lanciare un forum di discussione con le principali società oncologiche europee per realizzare un comprehensive cancer center virtuale europeo, dare vita a un'alleanza strategica con altri enti europei come la IARC, l'UICC, il WHO e promuovere iniziative comune avendo alleanza del Tocanco per la particolare posizione anche geografica del Paese, le relazioni che abbiamo col Mediterraneo, oggi c'è, sapete tutti, il primo ministro e altri sono in Israele ma abbiamo altre relazioni con la Libia per esempio, impostare un centro virtuale di studi clinici, accrescere la mobilità degli scienziati, anche qui siamo alleanze riuscite ad ottenere un, nell'ambito dei progetti di Marie Curie, degli scambi, un finanziamento che è sotto negoziazione dell'Europa con il progetto TRAIN, sono delle borse di studio che possono sia portare ricercatori in Italia, sia mandare ricercatori italiani all'estero. Infine appunto, che oggi, credo il tema di oggi, è una questione tutta aperta, 360 gradi, verificare su tutte queste progettualità come un supporto e un'integrazione con la rete GAR possa dare un valore aggiunto e una fattibilità a questi progetti. Queste sono le persone che tra Genoa, Roma e Milano agiscono come focal point per le affari internazionali delle anze contro il cancro e l'Istituto Superiore di Sanità e con questo vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio il professor Pierotti che ci ha fatto un quadro di una rete delle conoscenze come è oggi Alleanza contro il cancro. Devo dire che l'esperienza di Alleanza contro il cancro ci ha permesso come Italia, quello che aveva accennato, di presentarsi come coordinatore di un progetto europeo riguardamente al cancro, partecipando a una proposta che ci vede coordinare 19 Paesi e che speriamo sia, facendo tutti i dovuti scongiuri, dovrebbe portarci a migliorare l'azione anche a livello europeo verso questa patologia. Riteniamo che comunque questa rete delle conoscenze si debba integrare anche con la rete in cui oggi parliamo, informatica, in quanto speriamo che se tutto come ci aspettiamo andrà a buon fine, ci consentirà di mettere a disposizione più fondi per la ricerca, magari riducendo i costi di riunioni e meeting. L'integrazione con VU-CONF, credo che sia, che ci è stata appena presentata, sia strategica e importante proprio per far sì che i nostri investimenti verso la ricerca siano più orientati proprio sulla ricerca e utilizzando quindi questi altri Paesi anche per farci vedere dagli altri Paesi come siamo organizzati e aiutarci nel cercare di migliorare la ricerca a livello internazionale. Ora passerei la parola al Professor Frisoni che ci parlerà di Neogrid, Outgrid, un'infrastruttura elettronica globale per le neuroscienze computazionali, che nell'ottica dell'internazionalizzazione e dell'importanza che oggi a livello dell'Unione Europea si riconosce alle neuroscienze potrebbe essere uno strumento estremamente interessante. Grazie Dottor Guglielmi, grazie a GAR e al Ministero per questo graditissimo invito. Vorrei intrattenervi per qualche minuto presentandovi i risultati, alcune idee e i risultati di un paio di progetti europei che stiamo coordinando in questo momento, per i quali la partnership con GAR è assolutamente essenziale, anzi è strutturale in questi progetti, il cui nome vedete sono New Grid e Outgrid. Io sono neurologo, studio la malattia di Alzheimer, perché cosa ci azzeccano le infrastrutture elettroniche, cosa c'entrano le griglie con le neuroscienze, perché c'è venuta questa idea. Per questo devo intrattenervi per un paio di minuti su alcuni elementi clinici di base, sui quali credo dobbiamo essere allineati per poter andare avanti, siccome mi pare che l'audience sia piuttosto eterogenea, credo che potrebbe essere opportuno. che cosa sappiamo oggi della malattia di Alzheimer? Beh, sappiamo che la malattia si sviluppa per un fenomeno di tossicità, fondamentalmente di almeno due proteine, qui posso usare il pointer, sì, di due frammenti proteici, uno è a beta 42, beta amiloide, l'altro è una proteina che si staù, che si accumulano progressivamente nel tempo e si accumulano progressivamente, vedete sull'asse delle ascisse, a partire non dai 70 anni, 75, 80, quando i sintomi di memoria si sviluppano, ma da molto prima. So che non è un messaggio molto rassicurante per nessuno, per me in primo luogo, ma tant'è. Molto prima dai 40, 50 anni. queste proteine tossiche si accumulano progressivamente, per un lungo periodo di tempo la persona resta totalmente asintomatica, superata una certa soglia si sviluppano i primi disturbi cognitivi, inizialmente molto lievi, lievi dimenticanze, che però consentono alla persona di continuare a funzionare nella vita di tutti i giorni, superata un'altra soglia, inizia la disabilità, la difficoltà nell'effettuazione delle attività di tutti i giorni, lavoro, casa, quello che volete. Tradizionalmente, fino ad oggi, per fare diagnosi abbiamo dovuto aspettare quest'ultima fase, abbiamo dovuto iniziare a aspettare che esordisse la disabilità. Oggi questo non è più sufficiente, non è più accettabile. Perché? Perché cominciano a, grazie agli avanzamenti sulle conoscenze fisiopatologiche, cominciano a essere in corso di sviluppo, in fase 3 dei clinical trial, quindi la fase immediatamente precedente, la commercializzazione, cominciano ad essere presenti farmaci eziologici. Farmaci che dovrebbero fare questo, cioè catturare, se somministrati appena al primo sviluppo dei primi sintomi cognitivi, dovrebbero fare qualcosa di questo genere, cioè interrompere la neurotossicità, quindi la neurodegenerazione, quindi mantenere la persona all'interno di quella fascia di lievi disturbi di memoria che si associa ad una buona qualità di vita. Idealmente, ovviamente, vorremmo trattare il prima possibile, in modo che le persone non abbiano nemmeno i lievi disturbi di memoria, ma non ci siamo ancora. La concettualizzazione odierna è quella di identificare la malattia al più presto possibile, il più presto possibile oggi è, al primo esordio di disturbi di memoria, somministrare farmaci anti-amiloide o comunque anti-Tau o comunque farmaci in grado di modificare questa traiettoria e mantenere il paziente in questa fase il più a lungo possibile. Per questo scenario, vi ripeto, non ci siamo, questo è l'obiettivo futuro, l'obiettivo dei prossimi dieci anni. Perché questo scenario si concretizzi sono necessari alcuni elementi. Sono necessari, fra gli altri, dei marcatori di malattia. Marcatori diagnostici e marcatori di attività di malattia. I medici colleghi che sono in questa sala hanno bisogno di molte parole in più per capire l'importanza di avere dei marcatori diagnostici precoci e dei marcatori di attività di malattia in uno scenario di questo tipo. Quali sono le necessità, qual è la ricetta per sviluppare marcatori diagnostici sensibili per la diagnosi precoce e prognostici di malattia che possono essere utilizzati per lo sviluppo dei farmaci. Beh, come prima cosa ci vogliono dei grandi database. non è qualcosa che possiamo fare noi da soli al Fatebene Fratelli di Brescia o anche con l'aiuto dei casi del professor Nappio, del professor Paolo Tonin, ma ci vogliono database di migliaia di pazienti. Questi database in questo momento sono in corso di costituzione, pazienti catturati in una fase molto iniziale di malattia e seguiti ogni sei mesi con indagini relativamente sofisticate, risonanza magnetica strutturale ad alta definizione, PET con fluoro desossi glucosio, PET con imaging di beta-amiloide. Questi database sono pubblici, alcuni, il maggiore è l'ADNI americano, l'Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, purtroppo americano, non europeo, un altro piuttosto ampio è australiano, non è ancora pubblico, lo sarà presto, un altro è giapponese e un altro che stiamo iniziando a costruire adesso con ritardo, ma le risorse le abbiamo recuperate adesso, è europeo. Quindi database multimodali, ampi database multimodali che ci consentono di sviluppare marcatori diagnostici e prognostici, cominciano a essere disponibili. Che altro ci vuole? Beh, ci vogliono degli algoritmi sofisticati, perché per estrarre le alterazioni a cui va incontro il cervello in corso della malattia di Alzheimer, strutturali, metaboliche e molecolari, sono piuttosto sottili. Questo è il motivo per cui se io prendo la risonanza di un malato di Alzheimer e la metto al diafanoscopio, non è che vedo molto, ho bisogno di algoritmi sofisticati che estraggono la quantità maggiore possibile di informazione dalla macchina di risonanza magnetica che per questo tipo di malattie, risonanza magnetica o PET o quello che volete, è posta al limite della sua risoluzione. Quindi algoritmi sofisticati. Questo che vedete è un esempio di un algoritmo che estrae lo spessore della corteccia. Lo spessore della corteccia è un ovvio, ragionevolissimo, marcatore diagnostico di progressione di malattia. Sapete che la malattia di Alzheimer colpisce la corteccia cerebrale. E infatti vedete che estraendo lo spessore corticale al mese 0 e al mese 30 di persone molto lievemente compromesse, riusciamo a costruire una mappa differenza in cui vedete in giallo le aree che hanno perso spessore corticale. Poco, 0,2 mm. Quindi capite che siamo proprio ben al limite della risoluzione della risonanza magnetica. Però con algoritmi opportuni si riescono queste differenze per quanto sottili si riescono a catturare. Che altro ci vuole? Beh, ci vogliono sofisticati modelli statistici. Perché quello che vogliamo fare è riassumere le modificazioni nel tempo di questi marcatori in un'equazione. Questo è il modello e ciò contro il cui poi noi paragoniamo i casi, i gruppi, i trattati, i non trattati. Questo è un esempio in un piccolo gruppo di pazienti con una malattia di Alzheimer molto precoce. Questo è un gruppo di anziani sani. E questo è la quantità di sostanza, la densità di sostanza grigia in un voxel dell'ippocampo. Uno solo. Questo voxel qui. Cosa succede nel tempo? Nel giro di sei anni tutto quanto, senza entrare nel dettaglio. Vedete che i malati con malattie Alzheimer molto precoce perdono sostanza grigia. Le persone sane invece stanno sostanzialmente stabili. Ma quello che vogliamo per sviluppare dei marcatori accurati di malattia non è sufficiente vedere cosa succede in un voxel. Io devo costruire un modello che cattura ciò che succede nel cervello in tutti i voxel del cervello. E non solo dal punto di vista strutturale, ma anche dal punto di vista metabolico e anche dal punto di vista molecolare. Quindi capite che la complessità statistica è importante. Per far correre algoritmi di questa complessità su grandi database e algoritmi di questa sofisticatezza sono necessarie infrastrutture di calcolo potenti. Questo è il motivo per cui è nata New Grid, questa infrastruttura elettronica che la Commissione Europea ha finanziato. New Grid è costituita da due siti, un centro di coordinamento di griglia e un centro di coordinamento di dati, uno in Francia e uno in Svizzera, tre siti di produzione, cioè i siti in cui vengono effettuate i calcoli bruti, uno in Italia a Brescia, uno in Olanda ad Amsterdam e uno in Svezia a Karolinska, collegati, ovviamente, a banda larga, la banda per Brescia è fornita da GAR. Il New Grid riunisce tutti gli elementi di cui vi ho parlato, riunisce il dataset ADNI, include algoritmi per l'analisi dell'immagine, per l'estrazione dello spessore corticale e non solo, è costruito in modo che sia, è costruito per noi neuroscienziati, perché questo a me interessa, però è costruito in modo generico, in modo che altre applicazioni, anche cardiologiche, potrebbero essere implementate se necessario e nasce con 450 cores, con 450 processori, ma è espandibile ad libitum. In realtà abbiamo già un accordo con AJ per una espansione, almeno di altrettanti. Abbiamo installato una serie di servizi sui quali non entro. Abbiamo, New Grid è all'anno 2, alla fine dell'anno 2 di 3, quindi siamo a due terzi, un paio di mesi fa abbiamo effettuato, anzi no, tre mesi fa, abbiamo effettuato il primo Data Challenge, abbiamo estratto lo spessore corticale da 6500 immagini di risonanza magnetica in un tempo di 10 giorni. Per darvi un'idea della comparativa, questa operazione avrebbe impiegato 5 anni in un computer di quelli che avete in grembo. però questo non è sufficiente, non crediamo che New Grid, anche se riuscissimo a svilupparla come speriamo, anche alla fine del progetto New Grid, non sarà sufficiente, non sarà la risposta definitiva alle nostre necessità neuroscientifiche. La dimensione internazionale è fondamentale, fondamentale non fosse altro perché in Europa purtroppo siamo partiti in ritardo. Vi ricordo che la raccolta dei dati su cui costruire questi marcatori è partita negli Stati Uniti. In Australia poco dopo, in Giappone poco dopo e noi stiamo per partire adesso. Quindi se non ci colleghiamo fortemente agli altri progetti internazionali restiamo indietro. Per questo è nato il progetto che abbiamo chiamato OutGrid. Cos'è OutGrid? OutGrid vuole rendere New Grid compatibile e interoperabile con altre due infrastrutture omologhe. Una è in Canada, si chiama C-Brain, è in corso di costruzione, il referente, il Montreux Neurological Institute, a McGill. C-Brain offre algoritmi per l'analisi dell'immagine e risorse di calcolo basate sulla griglia. L'altra infrastruttura è negli Stati Uniti. È in Loni, Laboratorio of Neuroimaging, a Los Angeles, il sito dove che è la casa del grande database mondiale ADNI e che pure questo offre risorse di calcolo centralizzate non su griglia e algoritmi per l'analisi dell'immagine. L'obiettivo di New Grid, saltando i dettagli, è quello di costruire una infrastruttura di calcolo globale per i neuroscienziati computazionali che funzioni un po' come internet funziona per i laici. Un'infrastruttura dove i neuroscienziati computazionali possano trovare i dati, gli algoritmi e la potenza di calcolo per correre degli esperimenti alla ricerca dei marcatori diagnostici di progressione della malattia e anche, o altre, per rispondere a questioni scientifiche di altro tipo. Con questo ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio il professor Frisoni di questa presentazione. Ovviamente le domande direi di far porle tutte alla fine ai relatori qualora necessario. Adesso chiamerei il professor Curti perché ci illustrerà una delle risorse italiane nel settore della rete della ricerca che è Bibliosan. Buongiorno a tutti. Bibliosan è la rete se vogliamo è la rete trasversale nel senso che è un servizio che interessa a tutti chi si occupa di neurologia e di alleanza contro il cancro perché tenta di dare l'informazione scientifica a tutti i ricercatori indipendentemente dal campo e dal settore in cui lavorano. È un progetto che è nato come progetto è diventato un servizio e coinvolge tutte le strutture che sono vigilate dal Ministero della Salute e quindi comprende non soltanto i 43 IRCS ma comprende anche gli istituti zooprofilatici sperimentali tra enti centrali che sono l'Istituto Superiore di Sanità l'ISPENS e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Io credo che dire che l'informazione scientifica deve assumere in tutte queste strutture l'importanza che effettivamente deve avere non diciamo nulla di nuovo siamo enti di ricerca dobbiamo essere all'avanguardia per quello che produciamo per la ricerca che facciamo e quindi non possiamo nasconderci dietro il fatto che l'informazione scientifica non ci serve. Ci serve per tanti motivi ci serve perché per le nostre esigenze di formazione professionale ci serve per l'attività di ricovero cura che facciamo all'interno delle nostre strutture ci serve per fare svolgere attività di ricerca ma serve anche il Ministero per esempio per valutarci sappiamo benissimo che uno dei criteri fondamentali con cui siamo valutati è l'impact factor l'analisi dell'eccitazione si parla di age index tutti indicatori che sono nati in biblioteca che sono strumenti bibliografici e sui quali ci si basa per valutarci quando facciamo ricerca molte volte si sente anche dire che tutto si trova gratis su internet non è assolutamente vero questa rivista che si chiama Brain Research il costo annuale di abbonamento sono 20.000 euro per ogni struttura calcoliamo che noi siamo purtroppo calcando che i neurologici non sono tutti a 43X ma sono un po' di meno però abbiamo un solo abbonamento di Brain Research in tutta Italia all'interno degli IRX abbiamo per esempio una rivista che si chiama Journal of Comparative Neurology il costo scusate ma non vedo è 30.000 euro 30.000 dollari all'anno come per esempio se uno vuole sottoscrivere tutte le riviste del pacchetto Nature che sono 85 riviste andrebbe a spedere circa 140.000 euro se però non ha la rivista e vuole scaricarsi un articolo scientifico da una rivista a pagamento che non ha si trova una richiesta che si aggira attorno ai 30 euro 30 dollari a secondo della rivista da cui vuole scaricare l'articolo in formato pdf cosa ha fatto Bibliosan? Bibliosan ha tentato di dare una risposta ai ricercatori attraverso quelli che sono le informazioni scientifiche che può trovare sulla rete un'informazione scientifica che parte per esempio dall'interrogazione di un PAMED quindi da una ricerca bibliografica per arrivare poi a recuperare l'articolo l'articolo il pdf il documento a testo completo che quando è possibile si ottiene se si ha l'accesso al full text oppure ci si arriva attraverso la collaborazione con le biblioteche attraverso la consultazione dei cataloghi o attraverso l'intescambio di documentazione scientifica con la rete delle biblioteche con cui si è creato un rapporto di collaborazione l'informazione però non è solo questo ma è anche per esempio la possibilità di avere degli strumenti che permettono di collaborare biblioteca con biblioteca ricercatori con le proprie biblioteche o attraverso strumenti per esempio che sono tipo reflux strumenti che permettono di gestire le proprie bibliografie e avere degli strumenti necessari per quando si va a proporre degli articoli agli editori Bibliosan in questi anni cosa ha fatto? Ha creato praticamente ha condiviso e ha messo sul tavolo per tutte le strutture che fanno parte della rete una serie di risorse che possiamo quantificare in oltre 500.000 risorse riviste scientifiche a pagamento a cui si aggiungono altre 3.000 riviste open access quindi che non richiedono un pagamento che però sono accessibili attraverso il catalogo delle risorse elettroniche ma Bibliosan non è soltanto le riviste ma una serie di servizi che sono stati messi a disposizione che vanno oltre le riviste per esempio le Cochrane Library la medicina basata sulle evidenze Best Practice una risorsa nuova che abbiamo messo a disposizione dal primo di gennaio di quest'anno credo che siamo gli unici in Italia ad avere l'offerta l'Impact Factor il Journal Citation Reports Web of Science la banca dati che ci permette di fare l'analisi delle citazioni quindi possiamo calcolare tutte le volte che pubblichiamo quante volte i nostri articoli sono citati Refworks il software per la gestione bibliografica più una serie di strumenti di condivisione che sono i cataloghi per esempio HNP che è il catalogo nazionale dei periodici cartaci su cui c'è una sezione che si chiama Bibliosan A2Z che è un catalogo delle riviste elettroniche da cui è possibile ricercare ad accedere ad oltre 8000 riviste elettroniche Nilde e Nildotenti che sono dei software di collaborazione tra le biblioteche e tra le biblioteche i propri utenti che permettono a ciascuno di noi di poter richiedere in qualsiasi momento in qualsiasi parte del mondo un articolo alla nostra biblioteca quando non lo troviamo su internet e poi del software di servizio come LinkSource che è un software che permette di fare in modo che quello che troviamo su PubMed per esempio venga automaticamente ricercato all'interno dei nostri cataloghi e offerto come pdf nel momento in cui viene recuperato Classi infine è un software che permette di vedere tutte queste risorse non soltanto all'interno delle nostre strutture perché c'è un riconoscimento IP ma ci permette di vedere tutte queste risorse anche da casa nostra dagli Stati Uniti dal centro della città da qualsiasi computer perché c'è una connessione via username e password da remoto questa è l'interfaccia di Bibliosan credo che molti di voi sperano anzi prima sentivo qualcuno che la citava quindi immagino che la stanno utilizzando con tutte le risorse tutte concentrate in una pagina la possibilità di consultare il catalogo delle riviste elettroniche delle riviste cartacee e la possibilità di accedere al servizio nildo utenti ecco io vado velocissimo con delle schermate che sono dei flash questo è il catalogo delle riviste delle risorse elettroniche quelle 8000 riviste che vi dicevo sono ricercabili per titolo sono ricercabili per disciplina in questo caso faccio un esempio con neurologi per ogni rivista trovo il link col full text direttamente sul sito dell'editore posso trovare un link per andare a fare una ricerca su PubMed posso trovare il link per avere l'impact factor della rivista stessa questa è una ricerca sul catalogo a CNP il catalogo nazionale dei periodici cartacei dove c'è una sezione bibliosan e possiamo andare a vedere quali riviste cartacee sono disponibili nelle biblioteche del sistema abbiamo ancora circa 10.000 riviste abbonamenti in cartaceo all'interno del sistema questo è NILDE l'interfaccia attraverso la quale le biblioteche collaborano tra di loro e si scambiano gli articoli quando non sono recuperabili su internet direttamente in pdf e c'è un NILDE utenti che è un software sempre interfaccia web per cui ciascun utente di noi una volta registratosi può richiedere alla propria biblioteca l'articolo quando non lo trova in internet ecco NILDE è una rete di 650 biblioteche a livello nazionale e Bibliosan costituisce circa il 10% però vi assicuro che il traffico il numero di articoli che scarichiamo che facciamo girare sulla rete sono circa il 40% del traffico nazionale questo è un modulo di registrazione per cui ciascuno di noi si può registrare all'interno del sistema e questo è PAMED personalizzato come vi dicevo prima in realtà è un PAMED classico quello che trovate quando accedete sul sito di Betesna ma è fatto in modo tale per cui attraverso un sistema di passaggi uno fa l'interrogazione trova un elenco di articoli legge l'abstrat decide che quell'articolo gli interessa e vuole il full text gli compare un bottoncino che è quel bottoncino rosso con scritto find full text all'interno della pagina di PAMED il sistema automaticamente interroga i propri cataloghi e a secondo della disponibilità del pdf o ci permette di andare direttamente sul pdf oppure ci manda sul nilde per poter richiedere l'articolo alla nostra biblioteca quando non lo recuperiamo è un passaggio automatico che viene fatto dal sistema senza che voi ve ne accorgete questo è un esempio velocissimo faccio una ricerca su PAMED mi compare il mio abstract vedete che qui in alto a destra compare il loggettino di Bibiosan clicco su quello l'articolo ho diritto ad accedere a quell'articolo perché è una rivista in abbonamento arrivo direttamente sul pdf è un articolo a cui non ho diritto di accedere mi compare il bottoncino nilde utenti attraverso il quale mi compare un modulo già precompilato perché recupera i dati da nilde dal sistema PAMED e devo solo cliccare su un bottoncino che mi dice invia la tua richiesta alla tua biblioteca sarà poi la mia biblioteca che attraverso la collaborazione con le altre biblioteche recupererà l'articolo che mi serve ultimo servizio che Bibiosan offre è Refworks Refworks è un sistema di gestione degli articoli scientifici è quello che permette di di archiviare gli articoli all'interno di un proprio database di cui ciascuno di noi è proprietario un database che si trova su internet quindi accessibili da qualsiasi parte io mi trovo e grazie al quale nel momento in cui scrivo un articolo da mandare a una rivista mi permette di selezionare il formato che la rivista vuole per poter scrivere la bibliografia e creare delle bibliografie esattamente come le vuole la rivista nel momento che una rivista non mi accetta al lavoro in un minuto io riscrivo l'articolo per una rivista una seconda rivista cui mandarlo due cenni a best practice la risorsa che vi dicevo prima un sistema che permette di seguire una patologia dalla diagnosi fino alla dimissione attraverso i suoi passaggi quindi poter vedere tutti quelli che sono le fasi che mi permettono di fare una diagnosi differenziale vedere le terapie vedere tutte quelle che sono le informazioni relative alla best evidence che sono disponibili mi permette anche di poter trovare delle informazioni stampare purtroppo sono in inglese degli opuscoli da dare al paziente su questa patologia c'è la possibilità però di tradurli e di poterli anche pubblicare in lingua italiana c'è la possibilità di mettere delle linee guida quelle del BNJ ma c'è la possibilità anche di inserire all'interno di questa banca dati delle linee guida sviluppate per esempio all'interno di Alleanza contro il cancro all'interno di qualche altra rete di ricerca che noi abbiamo in Italia le Cochran Library qualcuno ne ha già parlato prima che in questo caso parliamo di linee guida basate sull'evidenza abbiamo l'impact factor la possibilità di interrogare le banche dati per l'impact factor e ricavare l'impact factor delle riviste anno per anno abbiamo la possibilità di interrogare Web of Science la banca dati da cui nasce l'impact factor ma dalla quale è possibile vedere articolo per articolo quante volte ciascuno dei nostri articoli è stato citato calcolare il numero di citazioni medie calcolare altri indicatori tra cui l'Ecindex che è uno degli indicatori che attualmente è molto molto di moda class class appunto è il software che ci permette di connetterci da remoto a tutte queste risorse da qualsiasi punto io mi trovo e questo su questo stiamo lavorando in collaborazione con Gare e con Cidea per vedere vedete che c'è già il bottoncino Shibboleth Compliant che sarebbe in realtà l'IDEM quindi la possibilità di accedere a queste risorse anche utilizzando un'unica username e password alcuni dati per darvi un'idea di quanto il servizio abbia preso piede è dato dagli articoli scaricati i dati 2009 sono ancora provvisori ma siamo a circa un milione novecentomila pdf scaricati dalla rete abbiamo praticamente più che raddoppiato quelli del 2007 il document delivery quindi gli articoli che vengono scambiati da biblioteca a biblioteca abbiamo raggiunto 50.000 calcolate che costano 30 dollari l'uno 50.000 per 30 dollari vuol dire un milione e mezzo di dollari risparmiati nil de utenti sono 2800 quelli registrati gli utenti class sono 2500 gli utenti refworks 1600 e una cosa fondamentale anche se molto spesso non viene dato peso è il numero di eventi che abbiamo organizzato all'interno delle strutture per spiegare cos'è Bibliosan e come deve essere utilizzato in tre anni abbiamo fatto più di 80 corsi di formazione di cui 50 ECM dietro a tutto questo lavoro c'è un lavoro di tipo organizzativo piuttosto complesso che va dalla gestione dei singoli IP alla trattativa con gli editori all'aggiornamento degli IP alla comunicazione con gli utenti con i bibliotecari alla formazione dei bibliotecari e degli utenti e tutto il lavoro che comporta i rapporti con il ministero i rapporti con la periferia e così via di sicuro il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di creare un ciclo e chiuderlo per far raggiungere l'informazione a chi ne avesse bisogno dando queste informazioni connotati che sono fondamentali in sanità che sono quelli della qualità della tempestività e soprattutto dell'esaustività in questo ruolo credo che le biblioteche abbiano svolto un ruolo fondamentale per far sì che ma a volte nascondendosi perché molte volte gli utenti non vengono più in biblioteca raggiungono le informazioni indipendentemente che la biblioteca ci sia o non ci sia ma vi assicuro che dietro questo c'è un grandissimo lavoro di formazione e di lavoro un'ultima slide per fargli vedere come chi fa ricerca e il numero di pdf scaricati qui abbiamo incrociato sono dati del 2007 i dati di una ventina di IRCS in cui siamo andati a misurare l'impact factor standardizzato e l'abbiamo incrociato con i pdf scaricati e c'è una la regressione da che c'è una r molto molto positiva per dire che effettivamente c'è un rapporto positivo tra chi scarica articoli pdf quindi chi legge e chi pubblica più uno pubblica più uno legge o viceversa non si sa chi viene prima però effettivamente c'è questo rapporto che è indicativo di come l'informazione scientifica forse è fondamentale per chi fa ricerca e io ho finito grazie buongiorno ringrazio ringrazio il professor Curti per averci rappresentato questa risorsa Bibliosa che poi è una risorsa che ci consente di risparmiare i nostri fondi economici di migliorare la ricerca e di essere speriamo più efficienti adesso do la parola al dottor Battistoni che ci parlerà delle attività di calcolo di interesse medico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare buongiorno a tutti ringrazio per essere stato invitato a dare questo piccolo contributo anche perché l'INFN non è soltanto un socio del GARMA diciamo è uno dei genitori di questo consorso allora per chi non lo conosce l'INFN l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è l'istituto che coordina promuove effetto alla ricerca scientifica nel campo della Fisica Nucleare e Subnucleare quella che adesso chiamiamo anche Fisica Astro Particellare e delle applicazioni di tutto ciò opera in stretta connessione con l'università e chiaramente è esposto sul fronte internazionale le università fanno ricerca in questo campo tramite l'INFN che ha 20 sezioni presso principali università 4 laboratori nazionali svariati gruppi collegati presso università che non hanno una sezione vera e propria fu istituito nel 1951 e nello spirito prosegue la tradizione scientifica iniziata dalla scuola di Enrico Fermi prima della seconda guerra mondiale le aree di ricerca degli NFN sono riassunte qui sostanzialmente il core business è l'attività sperimentale teorica nella fisica delle particelle elementari quella che si fa con i grandi acceleratori di particelle ma anche quella che si fa senza gli acceleratori per esempio usando i raggi cosmici va anche oltre per esempio si interessa di tutti i fenomeni che hanno a che fare con la fisica di base delle interazioni fondamentali quindi anche le interazioni gravitazionali per fare questa ricerca di base ovviamente usa molta tecnologia fa ricerca in tecnologia rivelatori di radiazione elettronica le macchine acceleratrici appunto e da tutto questo scaturisce anche un'attività interdisciplinare che in parte è collegata all'attività e alla ricerca sviluppo nel mondo medico in particolare l'attività interdisciplinare dell'INFN partecipano circa 600 full time equivalent tra ricercatori dipendenti associati universitari con un finanziamento dell'ente di poco superiore ai 4 milioni di euro di questo settore qui un quarto circa è direttamente connesso a ricerca e sviluppo col mondo medico ovviamente tutto ciò presso sia i laboratori nazionali che collaborazioni internazionali a cominciare dal CERN Fermilab GSA in Germania e tanti altri il patrimonio culturale è fatto appunto di macchine di dispositivi di rivoluzione ma necessariamente accanto a questo c'è tutto un mondo che a parte la tecnologia meccanica elettronica criogenica dei materiali c'è tutta una tecnologia di software che comprende sia lo sviluppo la gestione di algoritmi di grande complessità ma anche il management di grandi quantità di dati quindi prima anche di altri l'INFN ha sentito il bisogno e ha usato le reti di computer ha sperimentato calcolo parallelo calcolo distribuito e tante di queste tecnologie poi di fatto automaticamente possono essere riciclate e servono anche per il mondo dell'applicazione medica sia in campo di ricerca ma anche direttamente in campo clinico per esempio l'INFN su cose che hanno a che fare direttamente con ricerca clinica ma anche con applicazione clinica ma semplificando molto almeno questi settori qui quello di più immediato interesse è quello della terapia con adroni dei tumori la la ricerca in quello che si chiama BNCT boroneutron capture therapy le macchine acceleratrici per l'adroterapia i rivelatori da applicare alla diagnostica e alla dosimetria in radioterapia e adroterapia il trattamento di immagini questo qui da tanti anni è patrimonio di quello che è trattato come finanziamento da una delle nostre commissioni nazionali più recentemente si associa a questo un progetto strategico denominato INFN MED di cui mi è stato affidato il coordinamento che serve a valorizzare diciamo il trasferimento tecnologico dei prodotti più maturi da questo tipo di ricerca verso l'applicazione industriale o l'applicazione clinica diretta cominciamo a vedere uno dei campi dove si associa molto il problema del calcolo è quello dell'adroterapia sin dagli anni 90 l'INFN si occupa di questo collaborando con la fondazione Terra del professor Ugo Amaldi e ha realizzato già da un po' di anni con collaborazione con l'università di Catania presso i suoi laboratori nazionali del sud Catania il primo centro di prototerapia italiano denominato Catana di cui poi vi faccio vedere qualcosa dopo di che l'INFN è stato messo diciamo in collaborazione anzi in compartecipazione con il CNAO il centro nazionale di artoterapia oncologica che avrà la sua inaugurazione il 15 febbraio prossimo alla presenza del presidente della regione Lombardia e per questo progetto l'INFN ha avuto la codirezione tecnica della costruzione dell'impianto in particolare del sincrotrone l'acceleratore che servirà per accelerare protoni o ioni carbonio che è l'altra frontiera dell'adoterapia l'adoterapia ha una grossa necessità di calcolo a parte tutti i problemi connessi alla macchina di per sé che qui considererei minoritari c'è tutto il problema dell'ottimizzazione dei piani di trattamento e in particolare questo è un problema che è grosso per questa nuova frontiera che citavo cioè la terapia con ioni carbonio in cui in pratica attualmente il mercato vede un solo prodotto per quello che si chiama lo scanning cattivo un solo prodotto nel mondo occidentale che è ancora molto parziale il problema è dovuto anche alla complessità di fisica non entro nei dettagli e in questo caso è molto importante l'apporto che si può dare a livello proprio di capacità di simulazione dettagliata di quello che accade in un paziente più altre questioni che sono affrontabili oggi solo con una simulazione per esempio calcolare qual è la concentrazione di emettitori beta più dovuti all'irradiazione con protoni o ioni carbonio nella testa di un paziente che è una cosa che poi permette di verificare con apparati PET e ricostruire la dosimetria di quello che è successo attualmente si può fare solo con calcolo Monte Carlo vi avevo parlato di Catana Catana è questo centro che sfrutta il fascio del ciclotrone superconduttore tra l'altro realizzato alla sezione INFM di Milano e poi portato in Labro del Sud a Catania viene utilizzato per curare soprattutto il melanoma oculare e diciamo qui il problema di calcolo per i protoni comunque si pone e l'ottimizzazione serve a calcolare il dosaggio di fascio intensità